In Italia ogni tre giorni viene uccisa una donna. Hai la possibilità di dire no a tutto questo. Dobbiamo stare a casa. Ma se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura, potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Alza il telefono e chiama il 1522. Oppure scarica l'app per chattare con un'operatrice. La porta per uscire dalla violenza si può sempre aprire. Live da voi! La porta per uscire dalla violenza.